C'è tempo di giocare il gioco! C'è tempo di giocare il gioco! C'è tempo di giocare il gioco! E' un po' alza questo! Aspetta, sali sulla mia! Così! Vai, sali! Guardate che arrivo, devo andare all'ammunation! Eccolo qua! Boh, io non mi muovo più! Devo andare all'ammunation, raga! Oh, mica che vuole! Mi hai fatto fare tipo la scalinata! Devo andare all'ammunation! Ammunation! Ammunin! Ammunin all'ammunation! Non entra la macchina! No! Prendiamo 200 macchine e piazza da parte! Piazza di merda! GUSENBERG WHAT?! Raga! Sulle armi nuove che sono peso! Ok! La strema avviata! Giammo ti voglio bene! Che ignoranza che c'è! Raga, io come esco adesso? Raga! Raga! Non sto neanche registrando! Come esco? Non è problema mio! Io faccio così! Sta arrivando! No! No! Mi fa salire! Mi fa salire! Non lo fare! Non lo fa! Non lo fa! No! La macchina è entrata raga! Guarda la macchina! Guarda la macchina! Guarda la macchina! Guarda la macchina! Edo ma aspetti! Non ci credo! Raga sta prendendo fuoco il locale! Sta prendendo fuoco il locale! Perché mi sto sparando il tipo! No non mi sto sparando! Proteggiti! Proteggiti! Non ho mai... Guarda la macchina! È completamente dentro! Si sono chiuso anche le porte! Basta! Raga! C'è il locale a fuoco! Basta! Raga! C'è il locale a fuoco! Basta! Guarda la macchina! Però fa venire dietro il bambone! Io non ho mai visto una cosa dentro! Guarda cazzo! L'ho sperato! Ma cosa ho fatto? Voi vorrei vedere! Voi vorrei vedere! Se non mi spartano! Ok! Lasciano un secondo! Che insalotto! Guarda la polizia! Ha ucciso il tipo! Ha ucciso quello della Munation! La polizia! No! Io non ho parole! Io non ci credo! Io non ci credo! No raga abbiamo fatto la genialata del secolo! Non ci posso credere! C'è la polizia che ha ucciso il tipo della Munation! Guardate quanti! C'è tutta la polizia dietro il bancone! Guardali! Mi riescono! Oh! Sto arrivando eh! No! Io non ci posso... Eh ma! No! Figlia che imbecille! Guarda come l'hanno sbagliato! Ha sbagliato la polizia! La cosa bella è! Ammunation chiuso! Torna più tardi! Eh! Guarda a vedere! C'era un locale che stava andando a fuoco prima! A fuoco! Guarda quanti sbiri che ci sono qua dentro! Non è sconpio eh! Questo è mestruato! Poi come c'è entrata la macchina della polizia! Io sono andato a un palo! No! Il problema è quella rossa! Quella rossa! Pezzo per pezzo! Tipo passava! Tornata! Quì! Alcuna matata. Ragazzi è bene ritrovati questa nuova! Avete questo nuovo episodio della Mortanza Crazy Racing! Signori! Alcuna! Il ritorno di Jambu E su bec Alcuna matata 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 alcuna Che capelli orribili c'ho Comunque ciao Sono tornato Sono tornato Io scommetto su di me perché sono Io scommetto su di Edo perché sono E' GTA raga la gara io ve lo dico Aspetta aspetta Siamo in compagnia comunque di scappare Madonna che brutto Carpa treduci Jambu E' Claire97 Ma Lo scopo qual è di questa gara? Volerci bene? Oddio ma hai bagnato Scivola Hai bagnato ma Claire Guarda dietro che brutto Ringrazio Claire come sempre Guarda Claire Claire io veramente la stare dritta Ma che cazzo stai facendo? Perché vedo macchine che volano? Claire deve andare dritto Ma è impossibile fare questo warride Cioè è trasparente Ma che cazzo? È trasparente è impossibile finirlo Qua sono tre giri Cosa? Sono tre giri e la gara è gi- Chiara! No no Eeeh Lynn Sono esploso male Oddio Oddio Comunque ragazzi non vorrei dirlo ma Ho preso una boba in pieno Ho c'entrata una boba in pieno Vaffanculo What the fuck Che cos'è? È vero in prima persona la prima volta la fai easy proprio Ma porco Dias Eh sì Io non la faccio però Sto facendo l'abbonamento con l'acquario di Genova Come c'è anche un ritorno Eh sì eh Fallo se ci riesci Madonna Come cazzo? Già non mi sale nelle grate qua piccoline Eh perché abbiamo scelto la macchina troppo bassa Ok 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 No non ho capito un cazzo Proviamo Oddio Oddio no no Allora mi sta partendo l'ignoranza ve lo dico eh Ti ripeto mi aspettavo qualcosa di più furbo da te Ma cosa vuol dire di più furbo? Come superare questa warride? Eh si vede più grande Giro 2 di 3 attenzione Scapp giro 2 di 3 Allora innanzitutto Scapp sta balc... L'ho preso! L'ho preso! No ragazzi L'ho preso in culo No l'ho preso veramente Ragazzi no 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 io la citto Io l'ho citata Io so come citarla No però se vado in acqua non cito proprio niente Madonna che palle Ma stanno scherzando E devi capire come citarla come l'ho citata io prima Ah l'hai citata bastardo Bastardo E infatti sono già il secondo giro Eh bisogna essere punti in questo mondo Eh ma tu stai furbo soltanto su GTA Tu chiami le palle Ma il problema è che Dimmi una faccia a nuoto Dimmi una faccia a nuoto Oh bastardo Io sto facendo il ciclo sbagliato Il cazzo di chiamo Guarda che palle Sono la mia macchina che resploscia Blocka tutto guarda Io per nemmo punisco No 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 no! Come hai visto la scuola Come ti sta a scuola? Scappo ormai è anche Chiara Secondo me Chiara non finisce neanche il primo giro Aspetta che la vado a citare anche io forse Tipetta che la vado a citare anche io? Jeanvo è l'unico metodo perchè è impossibile per una warride di merde è ritorno è l'andata per forza ok l'ho cittata allora adesso dobbiamo fare tutto perfetto per recuperare col bastardo di scap aspetta chi è qua in mezzo? levati permesso permesso l'ha fatta chiara vai 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 no scap bastardo non l'ha preso ah va bene ho fatto i bordi e non l'ha saltato non l'ho preso questo è un metodo di cheating proprio assurdo che fai sott'acqua io sto streamando e il bello è che io faccio vedere sott'acqua la prima parte della gara e tu fai dai io penso di merda catrota dai che Edo mi starà superando sicuro per non stare guarda 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 dove sono finito sei morto? no ma cazzo ma io sono permesso ma devo passare ma perché c'è il tuo perizoma va via devo passare oh grazie salve 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 oh mio dio no no da fastidio scappa il primo guarda perché dai ci sono i pali guarda si sono i pali raga ma ci sono i pali qua in mezzo ma come fai ma vaffanculo ho incagliato la macchina prezza guarda che palle dio fa la neve poi la scioglie chi è che ha bucciato chi è che ha bucciato beh allora adesso mi spiegate chi è lo stronzo che ha messo un cazzo di palettone all'ingresso davanti esatto chi è quello stronzo che cazzo fa dai adesso c'è la tua macchina vai faccio un raid con la tua macchina pure guarda è rimasta lì è il castrata no no ma non ci finitela che gara di genero cazzo no 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 dai le macchina mi ci mettono davanti mi sono messo mezz'ora no anche il secondo e anche il terzo lo puo fare che bello ma perché me abbarco ma primo ma primo come hai mai ritrovato a me ma per cosino non ci credo no ma io stavo aspettando ma non eri due giri indietro di me no uno ma porca ma doi quanto dato vaffanculo giuca giuca vabbè compari della gara precedente purtroppo giuca mi diciamo mi spiegarmi va bene va bene ma io almeno ho scommesso su jb eh anch'io ho scommesso su jb almeno mi son preso dei soldi vaffanbaio niente ormai io mi diverto a fare il guarda 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 vediamo giambo vediamo giambo guarda che vuole stendendo così piano guarda boom dritto nell'acqua vaffanculo vaffanculo va bene va bene eh era ora sono arrivato questa qualità questa 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 epica chiaro che questa non è arrivata guarda che non sono arrivata io mi ricordo di passare da tutti i social che sono tornati in descrizione iscriviti al canale se non l'avete ancora fatto e passare da instagram che pubblico le foto sozze con jb no con jambu a sto giro ah ok è cambiato signori spolliceate condividete noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao